Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo fantasy. Un classico americano, il grande Gatsby, diventa qui un racconto di formazione ricco di magia. Mistero e scintillanti eccessi. La trama del libro The Chosen and Beautiful, della scrittrice N'Ivo, casa editrice Mondadori, è la seguente. America, anni venti. Jordan Baker cresce negli ambienti più raffinati. Non le manca nulla, denaro, istruzione, la stoffa per il golf e inviti alle feste più esclusive dell'età del jazz. Quire asiatica è in realtà guardata dall'alta società come poco più che un'attrazione esotica. E non può accedere a ciò che conta davvero. Ma il mondo è pieno di meraviglie, patti diabolici, illusioni spolgoranti, fantasmi perduti e il potere arcano degli elementi. Jordan deve solo imparare a usarli. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Grazie. Grazie.